Allora, buongiorno a tutti di nuovo, questa è la conferenza stampa di presentazione del film Pacificion di Albert Serra che accogliamo qui. Forse abbiamo anche la speranza che ci raggiunga il direttore della fotografia dopo, Arthur Tort, giusto? Dopo, però più tardi, cioè non si sa, forse. Il film è stato selezionato nella sezione Nuovi Mondi, è un'anteprima italiana, è una coproduzione Francia, Spagna, Germania, Portogallo con la partecipazione di Art et France ed è distribuito in Francia con le film di Los Angeles e credo sia già uscito in Francia. È un film che ha avuto la sua prima mondiale a Cannes e è stato poi selezionato in diversi paesi con la partecipazione di Benoit Magimel, Paoa Mahaga Fanau, Matai Pambrun, Marc Susigny, Sergi Lopez, Imon Setriola e si è uscito in Francia ai primi di novembre. Albert, siamo nella isola di Tahiti, nella Polinesia francese e seguiamo le giornate di un alto commissario dello Stato francese. Il personaggio si trova in un luogo che è a metà tra il potere gerarchico francese e i villaggi del posto, le persone del posto, si trova inoltre al centro di un conflitto che non è visibile, è in uno spazio intermedio e sta lì da solo, c'è una minaccia di esercizio nucleare, c'è l'attesa di un evento. A me mi è venuto da pensare che molto di quello che ci tiene legati allo schermo è quello che non vediamo in realtà. Esa è la domanda. È la idea della domanda, di fatto, che progresivamente, diciamo, entriamo nel punto di di vista del personaggio che sconoce, che sconoce, che sconoce a che punto questi rumori sono reali e, al stesso tempo, refleja un po' questa opacità o questa quasi abstraccione del poder che guia il destino di tutti noi e che sta cada volta più veloce e che cada volta comprendiamo meno, diciamo, in che interessi si muove. E, quindi, è un po' in questo punto intermedio che deve comunicare o deve fare la comunicazione tra questo poder, diciamo, molto allegato e il resto della popolazione, in questo caso una popolazione colonial, dove queste differenze o questa separazione tra il poder e la popolazione ancora sono più accusate, anche io penso che la film serve di metàfora anche per tutti gli altri paesi e ancora più, in questo spazio intermedio, ogni volta di comunicazione tra il potere e la gente normale, c'è meno gente. Anche c'era la burguesia, i funzionari, non so, e ogni volta si va facendo. Quindi, partiamo con lui, questa è la idea della film a livello formal, il suo punto di vista, la sua solitudine, la sua inquietud, la sua inquietud e la sua, quasi la sua perplegiatà davanti a non sapere che pensare. E, progressivamente, questo si va transformando in una specie di paranoia, cada volta si va incrementando le rispettate e il frutto di questa soledà, e fino a che la pelicola finalmente si va desestabilizzando, progressivamente, ma conjuntamente con la sua desestabilizzata percepzione del mondo. Questa era l'idea di fondo, in realtà, l'idea alla base di fatto del film, nel senso che noi quello che facciamo e siamo dentro, seguiamo lui, il protagonista, il suo punto di vista, il suo modo di vedere le cose, e si crea, sì, questa specie di luogo intermedio proprio perché c'è questo rapporto o non rapporto fra quello che è il potere, questa astrazione, sottolinea quello che è l'astrazione del potere che rimane sempre più astratto mano a mano, che i tempi, l'opacità, l'astrazione è opacità, il fatto che il tutto è piuttosto vacuo, vuoto, è sempre più distante, questo potere che ci dovrebbe condurre quello che sono le vite, il futuro delle persone, che invece diventa sempre più distante da quello che sono le persone, quindi un punto di vista che è quello del protagonista che si vede, non riesce a capire, diciamo che anche un punto di vista che riguarda quello che è la popolazione, insomma questa isola che è una popolazione che è basilarmente coloniale, ovviamente, e quindi in questo caso si sottolinea quella che è proprio la separazione nei paesi coloniali, diciamo si sottolinea la separazione tra quello che è il potere politico e quello che è la cittadinanza, la popolazione e anche questo il film può essere considerato e adesso si stanno allontanando sempre di più queste cose, soprattutto se si considera il film in fondo come una metafora anche per quello che è proprio questa separazione negli altri paesi del mondo in cui sta avvenendo, per separazione tra quello che è il potere politico alla popolazione, che con la creazione di questo spazio intermedio che un tempo era in realtà mediato, diciamo, dalla rappresentanza di quella che poteva essere la borghesia o altri elementi diciamo di intermediazione che adesso stanno sparendo sempre di più, questo spazio si sta svuotando sempre di più, diventando sempre più opaco. Quindi praticamente lui rimane solo e la sua solitudine, la sua inquietudine, la sua perplessità nei confronti di quello che non sa se succede o meno, non sa esattamente cosa pensare, che a un certo punto diventano, sfociano, diventano a questo punto paranoia e sospetto, sospetto e destabilizzano, no? Verso la fine del film, sia il personaggio che parallelamente anche il film stesso. Sì, è anche un personaggio però che è molto particolare come uomo politico, è abbastanza improbabile, no? Va in discoteca, fa delle cose che sono molto calate nella realtà del posto e non ci si aspetta questo da un uomo politico. No, non è improbabile, perché se miriamo a molti dei politici, precisamente, più populisti di direzione, cada vegada facendo cose più, diciamo, politicamente incorrecti, perché la opressione di quello politicamente correcto è così forte che la maggior parte della popolazione si sente come absurdamente oprimida per questo e quindi per questo questi leader che hanno un po' più di vita, che non hanno tantissimi pregiudizi e che hanno una connessione più cercana con la gente, sono gli che hanno più o meno èxito e, in effetti, cada vegada c'è più e cada vegada c'è più. Non è improbabile assolutamente, perché quello che può succedere, sta succedendo e succederà sempre di più, quando ci sono queste figure di politici populisti di destra, queste figure che creano, diciamo così, apparentemente, quello che è una maggiore connessione con la popolazione locale, proprio perché si sono resi conto del fatto che in realtà tutta questa cosa, questa atmosfera del politically correct è diventato veramente pesante e oppressivo per le persone, per cui si comportano anche in maniera politically non corretta, diciamo, facendo determinate cose che non sono magari previste, prevedibili e che li avvicinano però alle persone e che permettono di loro di avere più successo. Di questi personaggi ce ne sono e ce ne saranno sempre di più. Sì, forse quello in cui c'è più contrasto è il fatto che è tra la sua solitudine come uomo politico rispetto a un potere che anche lui non vede e la sua presenza nelle discoteche. Forse è questo il contrasto più forte. Sì, è il contesto di un sito colonial, dove queste mezclature ancora sono possibili. Diciamo che anche vedo che nel futuro, in tutti i paesi più normali, questo cada vegada si darà più. E, in realtà, è un lato visionario della film, però anche è un po' sottile, diciamo, non è molto exagerato, non è una persona, diciamo, che fa cose né ofensibili, non è un po' sottile, non è un punto di spontaneità. E questo, diciamo, lo fa più attractivo, interessante, perché, diciamo, non è come un robot. E, non è, in questo mondo di potere... Non è, non è. Quindi, in questo mondo di potere, diciamo, come diciamo, cargato di opacità, una persona più o meno transparente, e anche falsa, un po' reptile, diciamo, ugualmente, sai, non so, è qualcosa che dà un po' di respirazione. No, assolutamente, questo è assolutamente possibile, perché stiamo parlando di quello che è un ambito e un contesto immerso, coloniale, ecco. E questo, questa fusione, diciamo, di elementi può essere assolutamente presente, accettabile in questo contesto coloniale, ma lo diventerà sempre di più anche nei altri paesi che sono più normali, diciamo così, tra virgolette. Diciamo che, sì, il film ha un aspetto un po' visionario, diciamo, però lui, in ogni caso, tutte queste sue attività, è un personaggio che, in realtà, non si lascia mai andare, non è mai sopra le righe. Lui è un aplomb, è perfetto. Diciamo che tutto quello che fa è mirato, è basato su una certa spinta, diciamo, cresce da una sua certa livello di spontaneità che lo rende, in realtà, più attraente e interessante. Per quanto sia effettivamente anche falso, una persona falsa, qualcosa di viscido, rettile, però non è un robot. Lui è una persona che, in realtà, fa parte anche di questo. Cioè, lui si comporta in questo modo rispetto a quello che è, effettivamente, come dicevamo, l'aspetto, diciamo, opaco, poco visibile, poco, come si chiama, chiaro di quello che è la politica di adesso. Lui, in alcuni momenti, è più trasparente. Tutte queste sfaccettature di questo uomo, di questo personaggio, lei le ha affidate anche molto alla libera ispirazione di Benoît? C'è stato molto margine per lui di movimento? È difficile e lungo di explicar, perché ogni scena tenia come una maniera differente di svilupparsi. A volte utilizzava il pinganillo, orellette, auricolare, però pocchi, un pocchi, a volte non. Si, più o meno, algo di questo, diciamo che non solo lui, ma tutte le mie film, il fatto di ruire con tre câmaras, tomate di 20, 30, 40 minuti, inevitabilmente, c'è molta più libertà. Però, quasi, sempre con l'obiettivo, che parezza contradictorio con questo, che è di dare libertà a lui, no, al contrario, è di creare tutta una specie di perturbazione e di caos al reddor di lui, che fa a lui perdere il control di sua propria immagine e quasi, quasi perdere il control di sua propria actuazione. Ossia che, hasta che punto, quizás, sì che tiene un spazio di libertà, però che non è controllato per lui, né tampocco per me. È come un spazio un po' flottante, incerto. Più o meno, diciamo, diciamo che ogni scena aveva la sua particolare evoluzione e il modo, diciamo, di girare, a volte, di ottenere determinati risultati. A volte abbiamo utilizzato anche, per esempio, gli auricolari, con l'auricolare, mentre io gli davo le istruzioni e così via, più o meno, in modo pesantemente o meno, altre volte no. Però, diciamo che c'era una certa libertà, quella tipica che è data dal fatto che, girando con tre macchine da presa, contemporaneamente, e con delle riprese che andavano anche sui 20, 30, 40 minuti, necessariamente c'era uno spazio, certo, per la libertà, però, una libertà semicontrollata sotto certi aspetti, nel senso che quello che, l'obiettivo era sempre un altro, un obiettivo che può essere contraddittorio rispetto al fatto che, e si parla di libertà, di recitazione o di azione, non solo sua, ma anche degli altri. Il fatto di fare delle cose, io volevo, quello che volevo fare era creare intorno, per esempio, alla figura di Roller, di Benoit Magimel, un caos, un caos tale che gli facesse perdere il controllo di se stesso e anche della sua recitazione, in modo da avere una specie di libertà condizionata, mettiamola così, controllata, ma neanche da me, da tutto quello che succedeva. E' difficile per lui improvvisare perché non ha leito il guion, nessuno dei miei actori mai ha leito il guion di nessuna delle film, non sape nulla, quindi, è tutto, e io non mi comunico molto con lui, quindi è tutto una specie di, come diria, di flujo, di flujo, però improvvisare non è molto bene la parola. Diciamo che non possiamo parlare di improvvisazione che non corrisponde a quello che avvene durante le riprese, nel senso che poi per lui o per gli altri era impossibile improvvisare perché io e i miei attori non do la sceneggiatura, non la vedono mai e comunichiamo poco. e quindi diciamo che sarebbe difficile per loro improvvisare un flusso continuo di cose che avvengono. Sì, e non solo, ma credo di aver capito che lei non controlla neanche nel combo quello che è stato appena girato. No, nunca, nunca, nunca ho fatto ni ensayos con los actores, ni ho controllato, nunca, ni ho mirato una sola immagine de mis películas antes de finalizzare il rodaje. Entonces, para mi es como una performance nel sentido del mundo dell'arte contemporaneo, che hai qualcuno che sta facendo una cosa e lo fa molto concentratamente, però non si sape in che direzione va, diciamo, hacia dove va l'energia exactamente, non sta molto controllato, è qualcosa che hai come un'energia, però realmente non si trabaja nel codice della rappresentazione di che hai un guion, unos personaggi e si lo conosce e va a rappresentare quello, non hai ninguna rappresentazione previa alla cabeza di nadie. No, praticamente non c'è nessuna rappresentazione di nessun tipo nella testa di nessuno, perché è vero, io non controllo niente, nel senso che non faccio prove, non facciamo prove, non controllo né giornalieri, né immagini, finché non ho finito di girare e quindi questo per me il film diventa quella che è una performance, ma nel senso proprio nell'accezione dell'arte contemporanea, la performance d'arte contemporanea che crea un'energia precisa, però non si sa bene in che direzione viene indirizzata proprio questa energia, quindi non seguendo un preciso codice di rappresentazione del film, di una precisa struttura basata su una scelta e così via e con la sua evoluzione, non c'è nulla nella testa di nessuno inizialmente. Grazie, ci sono delle domande? No, volevo chiederle se potesse dire due cose sul lavoro di stilizzazione visiva che ha fatto in Pacificion sia di personaggi ma anche proprio a livello visivo. This is very important, solo in spagnolo, è molto importante questo, perché di entrata era la idea basica di che tutta la film visualmente fosse molto artificiosa, molto estilizzata, molto exagerata, a nivel per esempio di color, molta saturazione di color, incluso con colore falsi, per esempio di sol di color rosa, in realtà vemos magari naranze, un po' di rollo, però rosa, è difficile e si ved colore al limite dell'artificial, con la idea di questo, di recreare come se stuviere in un mondo, in questo paraíso, però quasi un paraíso mental, molto artificioso, per che il contrasto con questo precisamente fossero tutti gli actori, la maniera di actuare di gli actori, che già tiene un tono molto più salvaggio, molto più imprevisibile, molto più duro, di salvaggio, e che posera questo contrasto come una zona più oscura, che hai questo paraíso, però nel interior del paraíso hai tutti questi seres che si comportano di una maniera molto cruda, e soprattutto a livello della maniera di actuare, la maniera di parlare, è realmente quasi per realista, e che hiciera un contrasto con questo marco quasi di paraíso sognato. Questa era l'idea alla base del film, in realtà di creare quello che fosse un contrasto tra quello che è proprio l'atmosfera visiva, assolutamente stilizzata, artificiosa, artificiale, al limite proprio della falsità, utilizzando per esempio colori con una elevata grande saturazione, colori falsi proprio, nel senso che nella vita reale non è che troviamo il rosa, troviamo tinte intermedie, ma proprio il rosa non dominano la nostra vita, quindi al limite dell'artificiale e dell'artificioso, proprio per creare questa espressione di artificioso collegato a questo paradiso assolutamente artificiale, una specie di paradiso in fondo della mente, in cui si crea invece il contrasto con questa zona oscura in questo paradiso artificiale rappresentato da questi esseri che lo abitano, che ci si muovono, che sono i protagonisti, i personaggi che invece sono più selvatici, più duri, più netti, più tagliati con l'accetta, che si comportano, recitano, fanno cose che sono assolutamente crude, diciamo così, rispetto a quello che è l'artificiosità del tutto. Ci sono altre domande? Volevo chiedere se poteste parlare ancora del rapporto con la sceneggiatura. Buongiorno, il guion, era un guion molto detallato perché per la finanziazione è molto importante tener un guion lo più convenzionale possibile, questo, anche è una regla universal oggi in tutti i paesi, quanto più convenzionale più facile trovarla la finanziazione. E ho avuto i elementi che ci sono in la pellicola, per esempio, tutto lo nucleare, il tema central di che sono rumori di che ci sono di che ci sono di un nuovo ensai nucleare, eccetera, questo è stato e, in effetti, il fin si è diventato in visionario un po' grazie a tutto il conflitto di Russia, Ucraina, ancora, tutto il nucleare, sia lo militare, della amenazza militare, però anche de lo civil, della energia. Quindi, si è voluto a posare di moda il tema e è come una cosa un po' per casualità visionaria, perché il guion evidentemente si è scritto hace tre anni, però, il guion non si utilizza molto, evidentemente si utilizza per creare espacios, per los decorati e ogni giorno vamos a un decorato differente, che si basa un po' nel guion, nei espacios che vamos a creare, però, per esempio, a parte di Benoit Magimè, che è il protagonista e sta quasi in tutte le escenze e va a actuar tutti i giorni, a me piace tener tutti i actori disponibili tutti i giorni. Quindi, non ho deciso mai chi va a actuar fino al giorno o al giorno per la mattina. De tal maniera che in qualse di essi espacios posso llenarlo con qualche actor e inventar qualche escena, qualche cosa. E questo sì che lo decido cada giorno, però, è che andare a un espacio concreto per ragioni pràctiche. E, a partir di qui si comienzan a creare molte variazioni, però, è una specie di elasticità e di caos acceptato. Per esempio, la actrice protagonista che è in la pellicola, prima teniamo una, che il primo giorno vi che, perché mi lasciaron elegire entre tre e non mi gustava niente, però, escogei una, però il primo giorno a cabo di cinque minuti vi che non funzionaria nulla, quindi la partiamo. Lui vino un'altra di Francia che è arrivato il giorno il giorno del 24 di rodaggio, il rodaggio è corto, 24 giorni, 25 giorni, è arrivato il giorno e iniziò a fare scena, una che io abbia lavorato e che mi gustava, e iniziò a fare scena buona però si discutì con il produttore francese per il dinero e si fu il giorno il 16 e dove stiamo? Il giorno 16 di 24 o 25 senza la actrice principale e poi coi la che hai nella pellicola che aveva fatto una piccola e automattamente intento fare lo máximo con ella negli ultimi 8 giorni. Per dire, solo per entender che sì, il guion è all'interno, però mille cose passano al redditor della fabbricazione di questo guion. E beh, è chiaro che la sceneggiatura c'era ed era anche molto dettagliata fin dall'inizio perché quello che lo... cioè hai bisogno di una sceneggiatura per ottenere i finanziamenti, i fondi. Diciamo che è un qualcosa che fa parte del processo classico in genere in tutti i paesi. È più facile ottenere finanziamenti. Poi, sì, c'era la sceneggiatura però poi da lì che venga utilizzata è tutta un'altra storia. Chiaramente gli elementi alla base della sceneggiatura sono rimasti. Il tema centrale per esempio è quello delle voci relative a nuovi all'apertura della centrale nucleare, riapertura centrale nucleare, test nucleari, eccetera, eccetera. Questi sono il soggetto diciamo così alla base inizialmente della sceneggiatura. Quello è rimasto ed è quello che ha permesso al film di assumere diciamo un tono un po' visionario nel senso già di prevedere il futuro perché questo è successo la sceneggiatura c'era ben prima di quello che è successo tra la guerra tra Russia e Ucraina ma già un tre anni circa ma diciamo è suggestiva la questione del nucleare la minaccia militare tutta la problematica relativa all'energia per la popolazione e così via. Però in realtà è solo questo diciamo questi elementi in realtà la sceneggiatura deve servire in ogni caso a creare avere cioè ti rappresenta e crea degli spazi di cui tu hai bisogno poi per definire i set che sono diversi variano possono variare anche nel tempo mentre giri e anche per quanto riguarda gli attori l'impegno degli attori tranne Benoit Magimel che sapevo che avrebbe dovuto recitare praticamente avrebbe dovuto non solo essere presente ma recitare tutti i giorni io volevo in ogni caso pretendevo la presenza anche di tutti gli altri anche se non perché dovessero recitare tutti i giorni ma io quello che faccio è o la sera prima o la sera prima o molte volte anche la mattina stessa delle riprese decido se c'è qualcuno chi deve far che cosa cioè io ho bisogno di questi spazi che sono definiti dalla sceneggiatura che poi decido di volta in volta io di riempire di persone e così via ho bisogno di spazi concreti e poi mi giostro i personaggi gli attori le cose e così quindi si crea quella che diciamo si creano poi di lì in poi variazioni continue modificazioni continue si crea un caos elastico diciamo una elevata elasticità di questo caos riconosciuto che ti permette anche per esempio di fare cose come sono successe per quanto riguarda per esempio la protagonista femminile diciamo nel senso che tre ne ho passate praticamente nel senso che la prima diciamo subito è arrivata non mi è piaciuta e il giorno dopo ho deciso che non andava bene poi è arrivata è arrivata la seconda che è un'attrice francese che le riprese sono durate venticinque giorni lei al dodicesimo giorno ha litigato con il produttore francese poi al sedicesimo ci ha mollati lì quindi al sedicesimo giorno di venticinque giorni di riprese siamo rimasti sono rimasta senza trice ho utilizzato la persona che aveva fatto una piccola particina e l'ho utilizzata poi come protagonista questo grazie all'elasticità grazie dobbiamo chiudere grazie a Albert io volevo solo ricordare la distribuzione italiana che permetterà l'uscita del film nel 2023 con la Movies Inspired grazie a tutti mi spiace dobbiamo chiudere grazie a tutti grazie a tutti